Comincio la preparazione tagliando a metà due peperoni ben lavati, elimini semi e filamenti bianchi, taglia a strisce di circa 2 cm. Grazie per la visione! Ho lavato per bene le coscette di pollo, con l'aiuto di un coltello incido la pelle, pulisco eliminandola con l'aiuto di un tovagliolo di carta. In una padella faccio rosolare a fuoco medio in 3 cucchiai di olioevo le coscette di pollo, saranno all'incirca 700 g, rigido o spesso. Condisco con sale e pepe quanto basta. Sfumo con 40 ml di vino bianco, lascio evaporare l'alcol. Poi unisco i peperoni tagliati a striscioline e uno spicchio di aglio intero. Aggiungo 50 g di olive verdi denocciolate, del rosmarino, 50 ml di acqua calda e infine 50 g di polpa di pomodoro. Chiudo con il coperchio e lascio cuocere per circa 25-30 minuti. La carne deve risultare tenera. Il pollo con i peperoni è un secondo piatto appetitoso. L'abbinamento dei peperoni con la carne crea un piatto veramente invitante. Se volete un piatto hot potete aggiungere del peperoncino piccante. Questa è a vostra discrezione. Come tutte le mie ricette anche questa può essere pensata con delle varianti in base ai vostri gusti personali. Comunque consiglio di provare questo piatto quanto prima. Ve ne innamorerete! Grazie per la visione!